Politica foriana, ne parliamo con l'avvocato Enzo Di Maio, chiaramente importante il tema dell'approvazione del bilancio. Partiamo da questo, tante perplessità da parte dell'opposizione, avvocato. Sì, le nostre perplessità derivano dal fatto che, basta leggere gli altri del resto, è la stessa, gli stessi revisori dei conti, nonostante il parere favoribile, di cui chiaramente parlano quelli che amministrano questo paese, cioè la maggioranza, poi ha fatto una serie di rilievi, enormi rilievi. Addirittura il DUP, che è il documento unico di programmazione, è stato presentato contestualmente al bilancio. Spieghiamo agli amici che ci seguono che cosa significa, perché è importante. Perché il DUP in realtà che cosa dice? Parte dall'asi del sistema, cioè di quello che sta succedendo economicamente nel paese, quindi tutta una serie di punti, e da quelli sviluppa poi quello che è il futuro in relazione al bilancio, cioè dove fare gli investimenti, dove programmare. Allora immagina che i revisori dei conti su questo dicono che manca dei requisiti minimi. E questo è importante perché? Perché permette, che cosa? Avere il quadro dell'esistente, serve anche per poter poi investire bene nei settori. Il programma è lagunoso in una sacca di situazioni che sono enogmi, cioè gli investimenti per il turismo, per la scuola, per quelli che sono ormai queste esigenze sociali, perché la gente qua c'ha crisi. Allora lo stesso relatore, l'assessore al bilancio, ha aperto la sua discussione dicendo che in realtà il bilancio del Comune di fuori sostanzialmente poi permette al Comune di investire soltanto un minore di 200 mila euro a là. E poi loro come spendono questi soldi? Rifacendo il parcheggio di Panza, per esempio, che ci è costato 300 mila euro in un primo investimento. Però noi abbiamo appreso in Consiglio Comunale che in realtà oltre 300 mila euro già investiti, ne investiranno circa altri 150, perché hanno fatto delle varianti al piano, per creare un bagno e poche altre cose, tipo i giochi, altri 150 mila euro, se abbiamo capito bene. Ma può essere mai che in un paese che ha difficoltà in tutta una serie di settori, e si vedono apertamente, i cittadini che vivono in questo paese lo sanno, che l'investimento è fatto su un parcheggio che probabilmente doveva essere, sì, messo a posto e ristrutturato, ma che sostanzialmente in realtà viene fatto ex novo, buttando, secondo me, a mare un sacco di soldi. In quell'occasione avrei fatto una scelta diversa, avrei investito diversamente quei soldi, avrei speso 50 mila euro, casomai per mettere a posto quel parcheggio, perché Panza aveva necessità di metterlo a posto. Fra l'altro riducendo i posti auto, perché in quel parcheggio, col progetto che hanno fatto, ci saranno 12 o 14 posti auto, allora non ricordo bene, in meno di quelli che c'erano prima. Questo è serio. Dopodiché la maggioranza dice, ma voi perché non fate, perché la solita cosa è proponete. Io faccio una domanda alla maggioranza, ma se il DUP non viene portato a conoscenza delle opposizioni in modo, nei tempi dovuti, perché il DUP doveva essere approvato addirittura lo scorso estate sostanzialmente, poi per motivi elettorali loro l'hanno approvato contestualmente al documento di bilancio. Ora immaginatevi, se noi non conosciamo tutti quelli che sono dati che c'è in possesso l'ufficio, come può uno che fa l'opposizione poter proporre seriamente, non tanto per fare soltanto demagogia, perché noi non vogliamo fare demagogia, noi vogliamo essere seri sui problemi del nostro Paese, delle soluzioni alternative. Quindi ci hanno messo anche in condizione, io questo ho fatto presente in Consiglio Comunale, di non poter essere propositivi rispetto a certe cose, perché effettivamente il modo di fare le cose è diciamo quantomeno superficiale. La nostra rappresentante nella Commissione bilancio si è lamentata addirittura che nella Commissione i documenti sono arrivati la mattina prima, ma si può votare un documento programmatico sulla base, tra l'altro teniamo presente che il bilancio è un documento corposo, difficile anche da leggere tecnicamente, per cui noi abbiamo chiesto come opposizione di avere un riepilogo di tutte quelle che sono le voci del bilancio e di sintetizzare una relazione, che sarebbe una cosa buona e dovuta anche perché questo permetterebbe anche a ogni singolo cittadino di entrare all'interno dell'amministrazione e di capire come effettivamente la pubblica amministrazione ha interesse a spendere e in quali settori o in che modo, per esempio, ridurre le spese. Questo è un altro punto critico del bilancio. Le spese sono aumentate. I revisori dei conti rivedranno che in realtà il personale in questo momento, cioè le spese per quanto riguarda, sono addirittura superiori a quelle previste dalla legge, cioè loro non potrebbero fare. In Consiglio poi ci vengono a dire sì, ma noi spendiamo appena, in realtà da questo calco, 10 o 20 mila euro in più rispetto a quello che potremmo spendere. Io ho fatto un ragionamento che è diverso. Dico, ma scusate, al di là delle 10 mila o delle 20 mila euro di cui parliamo, ma è mai possibile che un comune come Forio possa avere personale per 29 persone, quindi ha esigenze di assumere, indubbiamente, ma di assumere chi? Non dirigenti settori, non aumentare i livelli come stanno facendo, ma casomai servono proprio quelli che invece sono dei livelli più bassi, che servono poi ad essere la mano d'opera, cioè chi fa, chi scrive l'atto, chi lo prepara, chi fa le fotocopie. Manca questo al comune di Forio. Allora non è possibile avere 10 settori, cioè su 30 dipendenti comunali, 29 a dire l'esattezza, perché i vigili sono a parte, quindi non li calcoliamo. Ma su 29 noi abbiamo 10 settori.